Anche perché sapevamo benissimo che verba volans, quindi se domani dovessi prendere una multa perché un guardia pesca ha rigorosamente e sinceramente interpretato una norma di legge e non uno sciocco regolamento da quattro lire condominiale, non potrei fare altro che accettare il buon operato del tutore della legge. Quindi lo trovo assolutamente ridicolo, non ho altre parole. Visto che hai nominato ponti, visto che hai nominato artificiali, a quel punto ho approfondito, ho continuato a studiarmi la normativa che vige in quelle acque e ho trovato praticamente degli altri prodotti di nicchia tipici di quello che possono essere un sistema quantomeno superficiale di gestire la pesca. Guarda che è tremendo comunque lui, cioè se tu gli dai uno spunto, va a scavare con... La colpe è sua, io me ne sto tranquillo nella mia cuccia, lui arriva, me la scuote e mi dice attacca. Vedi che poi alla fine ritorna sempre la questione che io ti avevo chiamato Pitbull non a caso. Da quando lo conosco questo qua mi ha rovinato, mi ha rovinato la vita perché ogni volta che prendo le cani da pesca per andare a pescare... Ma tu lo sai che è leggera... E allora tutte le volte mi sento di... ma sarò a posto, ma sarò... ma avrò la roba giusta, ma potrò fare questa cosa qua. Adesso vediamo, sono curioso di sapere che cosa tira fuori dal cilindro. Io spero, spero e magari se ci sarà modo di essere in contatto con l'assessore spero di averne comunque conferma... Sicuramente sì. ...che queste praticamente nella vecchia normativa siano dei refusi, cioè dei risituati preistorici di una legge che comunque non vengono più utilizzati. Anche se però con le modifiche del 2009 non si facciano di abrogazione di queste leggi. Certo, sono lì. Quindi per sempre la stretta norma di legge in teoria dovrebbe essere ancora valide. Abbiamo parlato di artificiali. Allora... Io so dove vuoi andare a parare. No, 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 quella te la dico dopo, quella te la dico dopo. Allora, il comma 10 ci dice che nel caso di cartura di salmonidi, timalidi e coregonidi sotto misura, sotto misura, il pescatore è tenuto a tagliare la lenza senza strappare l'amo. Tagliare la lenza senza strappare l'amo. Qualora il medesimo sia inescato con esche naturali o artificiali con ardiglione. Quindi io lascio in bocca il mio bravo mino, fa una trotella sotto misura, taglio la lenza e lo mando via. Qualsiasi azione diversa da questo sarebbe illegale. Poi ti dico anche che siccome a me l'italiano, nonostante lo parli malissimo, è una cosa che piace molto. Strappare l'amo è una cosa che poteva scrivere mia nipote che ha 18 mesi. Vado avanti? Vado avanti? E' consentito il rilascio di salmonidi di misura, quindi adesso non parliamo più di quelli sotto misura che lasciamo liberi con un pensolante e un ondulante attaccato alla bocca. Quindi è consentito il rilascio di salmonidi quando poi due commi prima mi dice che è vietata qualsiasi emissione senza l'autorizzazione della provincia. All'amatico non esca artificiali purché prive di ardiglione. Quindi vuol dire che se io ho l'ardiglione quel pesce lo devo uccidere, perché tu mi autorizzi a rilasciarlo solo se non ce l'ho. Vado avanti o mi fermo qua? No, no, vai avanti. Matteo, di fatto robe di questo genere qua, ne abbiamo lette solo due, attenzione, purtroppo devo aggiungere una cosa, molte leggi che riguardano la pesca e non solo queste, il nostro occhio è caduto qua sopra perché c'è qualcuno che ce l'ha segnalato, ma non pensiate che in altre leggi regionali le cose siano migliori. Anche peggiori, ne abbiamo viste anche di peggiori. Non abbiamo avuto il tempo di andare a guardare, ma ti garantisco che altri sono anche peggiori. Dico, di fatto, leggi, solo questi due commi praticamente di fatto impediscono tre tecniche di pesca. Il carfishing, la pesca a mosca e lo spinning. No, per il carfishing c'è anche un'altra sfumatura, poi chiaramente adesso ci stiamo ironizzando, dobbiamo essere tendenziosi. Il comma 1 dell'articolo 4 dice che è consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali, e finché nulla a questo. Escluse le uova di pesce o loro imitazioni. Allora, mi spieghi da un punto di vista ambientale che danno può fare un'imitazione di pesce? Allora, io se volessi esagerare, cioè ingigantire la cosa, posso dire che Roberto che usa le boilers per me è un'imitazione di uovo, scentata, e quindi non la puoi usare. Un uovo di struzzo. Un uovo di struzzo. Un uovo di struzzo. E quindi non lo... perché? Ma in effetti questo regolamento qua dell'imitazione di uova di pesce... Poi ti spiego da dove deriva. Cioè, tutte queste chicche che stiamo vedendo, c'è un perché sono state scritte. Perché non è che uno si è svegliato la mattina e se le inventate perché ignorava le tecniche di pesca. Purtroppo, ed è la cosa grave, c'è un perché si arriva a questo. Vado avanti ancora. Dammi la spiegazione, ad esempio in particolare, riguardo l'imitazione di uovo di pesce che mi interessa da vicino. Tutte... la norma fonte da cui originano il 99.9% delle leggi in materia di pesca in Italia risale a un reggio decreto del 1931. Quindi, vi siete mai chiesti perché la pesca notturna è vietata? Tranne che per l'anguilla. Perché l'anguilla è redibile. Tu non potevi impedire all'omino di commerciare o mangiare l'anguilla. Si può pescare per tutto tranne che vicino. Ed è anche qui. Anche in questa di Treviso c'è, nelle altre leggi regionali. Perché non si può pescare dai ponti o vicino i graticci o a tot distanza dalle dighe? Perché nel 1931 c'era il discorso del rischio di attentati che si potesse sfruttare la scusa della pesca, quindi sostare in determinati luoghi, eccetera, eccetera. Si è tramandata all'infinito. C'è il discorso del sangue o della larva di mosca carnale, che a me piace tantissimo, cioè da tecnico ambientale, tutti vietano l'uso del sangue. Non c'è nessuna prova scientifica, biologica che dice che il sangue è una sostanza stordente per i pesci. O addirittura, un'altra cosa che viene a essere, il fatto di evitare l'uso della larva di mosca carnale per la pesca dei salmonidi. Quando qualsiasi entomologo di media statura culturale ti può dimostrare che la larva di mosca carnale non fa nessun danno al pesce. Però cosa succedeva? Quello probabilmente lo vietano per un'altra questione. Per rischiare la pasturazione. Per evitare che la gente vada a pasturare in zone di acqua pregiata, diciamo così. Però la motivazione di cui tu mi dici non la puoi usare è perché dice che danneggia il pesce. Non danneggia il pesce. Ma quelle sono le leggende urbane di cui è farcita la pesca? Di cui risalgono la maggior parte nel 1931. Ora, siamo nel 2010. Le acque sono cambiate, i pesci sono cambiati, le esigenze dei pescatori sono cambiate, le caratteristiche dell'ambiente è cambiato. Noi ci ritroviamo. Una legge... Con questa concluo perché veramente c'è... Fermatelo. Allora, noi ci troviamo una legge regionale che ha tutti questi articoli per il pescatore sportivo. di prescrizioni, di divieti, di tutta una serie di comportamenti e per il pescatore professionale in acqua dolce abbiamo un solo articolo, piccolo così. Ecco. Pescatore che la legge ci dice che può stendere reti anche in acqua di categoria A, cioè quindi da salmonidi, è assurdo ma c'è, se vuoi te lo prendo. No, no, mi fido. Parla di Bertovelli, più che di reti. Ma può spararmi in acqua reti fino a 24 metri con maglie da 16 mm, quindi poco più di un centimetro e mezzo. Ci rimane un bairone, tranquillamente. Praticamente. E da un'altra ricerca che ho fatto, in provincia di Treviso, che opera in acqua dolce, attualmente ne abbiamo addirittura 13. Quindi 24 per 13 fanno un bel po' di reti. Che possono essere tratte. E non hanno limitazioni di dove. Speriamo che non lo sappiano. Allora, no, purtroppo lo sanno. Quindi questo fa capire, cioè, io che pesco con un amo e con un uovo artificiale, che impatto ambientale posso avere? Tu invece che peschi con una rete di 24 metri, di maglia di 16 cm, in un ecosistema così fragile, così delicato, così compromesso in tutti questi anni, è possibile che le tue uniche prescrizioni sono contenute in un solo articolo? Queste sono le incongruenze. Allora, è mai possibile che nella nostra Repubblica di Pulcinella possano accadere delle storie come queste? Assolutamente sì. Sono d'accordo. Assolutamente sì. Perché di leggi fra il ridicolo e il grottesco, nel mondo della pesca, e mi limito a parlare di quello, siamo assolutamente pieni. Ci sono delle leggi che sono grottesche, perché in alcune regioni la misura minima della ricciola è 20 cm. È grottesco. Posso dirti che in alcune regioni è 7 cm. Io non credo nemmeno che sia malafede, oltretutto. Credo che chi ha legiferato in passato in materia di pesca fosse semplicemente, beatamente, ignorante. Ignorava, cioè ignorante nell'accezione più pura del termine. Ignorava quello di cui stava parlando e ovviamente legiferando. Perché altrimenti non si spiegano tutte queste incongruenze. Io, Matteo, tu sei estremamente politically correct, come si usa dire.